La vostra posizione lavorativa è a rischio a causa dello sforamento del patto di stabilità? È un dato di fatto, come è stato dimostrato ieri all'Assemblea regionale, dove ci siamo riuniti più di 10.000 contrattisti a capo di una manifestazione presieduta dai 159 sindaci che facevano capo ai nostri problemi. Ad oggi siamo più di 300 unità tra ex articolo 23 e tra lavoratori ASO che prestiamo servizio presso il comune di Favara dal 1996 ad oggi. Abbiamo congardato con il sindaco e con il direttore generale del comune che giornalmente dalle 10 alle 11 riuneremo in aula a consigliare per tenere alta l'attenzione presso tutta la provincia del nostro problema. Anzi, mi faccio portavoce di invitare i deputati locali, i consiglieri comunali per cercare di invatizzare il nostro problema e farlo veicolare il più possibile. Non mi limito a dire che siamo accanto a questi lavoratori, perché il problema ce l'ha il comune, ce l'abbiamo noi, il problema è loro perché rischiano il posto di lavoro, ma il problema è anche nostro perché non saremmo in grado, come amministrazione, di poter assicurare e reggere i servizi. Però occorre stabilizzarli, al tempo stesso la regione con i comuni e gli enti locali si deve far carico di un progetto di ottimizzazione del servizio, di razionalizzazione dell'efficienza della prestazione di lavoro che vengono resi perché bisogna garantirne anche l'efficienza.